Allora, questo libro nasce dalla mia esperienza personale davanti a tutto questo bailame di cui si sente parlare del problema del mondo del lavoro come qualcosa di una battaglia, qualcosa con cui lottare il padrone contro il datore di lavoro, l'operaio eccetera. La mia esperienza invece è completamente diversa. L'esperienza nasce dalla gratitudine per chi mi ha insegnato a lavorare e dalla scoperta che attraverso il lavoro si può scoprire il senso della vita. Questo è quello che mi ha insegnato, sta da facendo la mia personale esperienza e ho cercato di raccontarla ai miei figli e ai miei amici attraverso questa espressione che è un piccolo romanzo, un piccolo racconto. Cerco lavoro perché evidentemente parte dalla richiesta di tutti di trovare un posto di lavoro eccetera. Il romanzo punta a un'altra domanda che potrebbe essere cerco lavoro, punto di domanda. Quando cerco un lavoro desidero trovare solo il lavoro perché quello che io cerco di documentare è che uno nella vita oltre al lavoro cerca se stesso.